Ecco lo scambio, Yokisalo scodella proprio per la brasiliana Barca con Vanessa, in avanti per Colucci, fa bene la sponda Poi Barca, esterno della rete, seconda opportunità per la Lazio Vanessa in profondità per Colucci che di testa, fa bene la sponda per Yokisalo Poi Colucci ancora, che ha il contropiede della CMB Se ne dese, si chiude l'1-2 Allora Vanessa può ripartire, non riesce a sfondare il muro a Maranto Vieira, vieira! Questa è qualche secondo di troppo, occhio alla ripartenza della CMB Se ne dese, per Sneijder che controlla Sneijder! E poi serve sulla linea di porta, se ne dese, il capitano, fa 0-1 Poteva essere sfruttato in maniera migliore il calcio piazzato Qui sbaglia! L'HCMB e poi il palo! 4-4 per il racconto di falli, 0-1 Il risultato, Vanessa, palo ancora! 5 falli, commessi dalle ragazze di Chilelli contro i 4 Della CMB qui, sbaglia a Morin, Vanessa Vanessa! Per Eira! E' 1-1! Ion, a Morin, in avanti per Sneijder Questa volta si prende gioco! Nella capitano della Lazio, ma non è riuscita a centrare la porta Vanessa! Vanessa qui sbaglia il tocco per Abbarca, ne può approfittare a Morin per Sneijder! Sbaglia qui il CMB, Colucci, serve Yoki Salo! Yoki Salo! 2-1! La Lazio ribalta tutto! Siclari, su corner Per Vanessa! Scodella dentro, Valenzano addormenta per Ioanna! Poi Ioanna passa via, però avvierà Che tira il pallone in campo, avvierà per Ioanna! Valenzano! Senedese! Schneider! Schneider! Vanessa in profondità! Da Yoki Salo! Yoki Salo! Yoki Salo! Palo! Cimarosa! Non è uscita per l'arbitro Schneider! Senedese! Col piattone fuori! Pepe in avanti per Siclari! Traversa! E poi Siclari! No! Non è possibile! Secondi preziosi per la Lazio che sta conducendo per 2-1 Yoki Salo! Palo! E' il terzo per la Lazio! Yoki Salo! Yoki Salo! Cimarosa! Poi Barca! Siclari! E alla fine si salva il CMB! Lancio in avanti! Suona la sirena! Finisce! Qui! La Lazio torna la vittoria e lo fa nel segno di Vanessa e Yoki Salo! ! Schreie! La Lazio torna la vittoria e lo fa nel segno di San Antonio e le hanno una nuova e lo fa nel segno di Matteo e lo fa nel segno di San Nino e lo fa nel segno di San Antonio Grazie a tutti.